Il tempo resta quello dell'attesa e non delle valutazioni affrettate. L'Avelino vista al partenio Lombardi contro la Casertana in amichevole, non è ancora la squadra che affronterà il prossimo campionato. Il gruppo è incompleto e dalla ricerca della sua identità, ma buone indicazioni arrivano in difesa da aia, personalità, carisma ed esperienza. A centrocampo da Franco, che ha visione di giochi, una tecnica che riconcilia col calcio dopo due anni di bruttezza. E poi guadagni, che ha spessore, la giusta dosa di Cazzimma, come si suol dire, e una capacità di creare azioni gol che però vanno concretizzate. L'1-1 finale è il giusto risultato rispetto a un primo tempo in cui gli uomini di Taurino hanno creato di più e sprecato anche un rigore con Bernardotto. In porta davanti al giovane Pizzella, Marcone non è ancora al top, hanno trovato posto Auriletto, Aia, che ha preso in mano la difesa, e Zanandrea. A centrocampo riposo per Dall'Oio, con Garetto al fianco di Franco, e poi Ricciardi, il ragazzo si farà, cantava De Gregori, a destra, e Tito, giusto alla sua riconferma, a sinistra. In attacco Bernardotto non è lucido, guadagni di Gaudio lo sostengono spesso, accentrandosi, ma non basta. La casertana di parlato invece si dimostra una squadra tignosa, fisica, con giocatori importanti come l'ex Dionisi e Turchetta, e non certo da Serie D. Nel primo tempo i bianco verdi si fanno vedere spesso in aria, prima con Guadagni, su punizione, poi con Zanandrea, che spreca di testa. Prisco fa il miracolo su Di Gaudio e subito dopo il peperino guadagni conquista un rigore prezioso, seso da Sabatini, che però Gabriele Bernardotto si fa parare, siamo al 27esimo. La curva rumoreggia con i cori, noi non siamo da B e dove sono i calciatori mentre la pioggia non si ferma. Nella ripresa i ritmi sono più bassi, le sostituzioni tante, ma almeno i cori di malumore si placano quando Tito, su suggerimento di Micoschi, controlla il pallone e lascia partire un sinistro violento, preciso, rabbioso, quasi a voler dire il passato è passato, ora voglio affrontare il nuovo presente con l'Avellino. Taurino dà spazio poi a Sbraga, Moretti e Mastaldi, ma la casertana non molla di un centimetro, anzi cresce di intensità e alla mezz'ora trova il gol di testa dell'irpino doc Sena, classe 2004. Tringali alla fine potrebbe anche raddoppiare, ma Pizzella non si fa trovare impreparato. Al tripice fischio sono pochi gli applausi, ancora tanta la delusione, e scattano giudizi che trovano riscontro solo in una realtà gostana però, in cui i diversi pezzi di valore e prestigio ancora non sono stati inseriti in un mosaico che tutti, non solo i tifosi, vogliono che sia vincente.